Abbiamo sempre traffico scorrevole ma anche intenso, soprattutto però in direzione nord, nella mattinata odierna. Però c'è anche transito sempre in direzione sud, quindi la gente continua ad arrivare. A proposito degli arrivi, si può tracciare un primo bilancio della metà di agosto visto dall'autostrada? Abbiamo un incremento notevole del traffico sulle nostre strade, quindi la gente sceglie ancora la Puglia per le proprie vacanze. Transiti che nelle fasce orarie con maggiore affluenza hanno sfiorato quale quota? 2.900 transiti nella punta massima per quanto riguarda le nostre autostrade, parliamo ovviamente in direzione sud. I transiti registrati in un'ora in un normale giorno d'inverno si aggirano tra gli 800 e 1000, tanto basta capire come autostrade statale 16 nei giorni clou delle vacanze siano state prese d'assalto. Le altre giornate da Bollino Rosso sono previste nel prossimo weekend, quando si potrebbero toccare anche i 3.100 transiti orari per il controesodo. Prevediamo punte molto alte, soprattutto in direzione nord, ma questo non esclude ancora l'arrivo di vacanzieri. Quindi ho detto, diciamo, i ritardatari delle vacanze che forse assaporano i giorni migliori.